Vai dammi, finiscilo! E tu chi sei? Cosa ci facevi nel mio armadio? Non preoccuparti! Comunque, qual'era la passione del Wolfhack che non ricordo? Eh, uno, due, tre, quattro, cinque! Uno, due, tre, quattro, cinque, giusto! Che sta succedendo? Dove? Dove? Ok, ho capito! Mi presento! Sono il Dottor Dottore! Sono il creatore di tutti questi Siren Head Cosi! Sono qui perché ho un conto in sospeso con Dame! Oh! No! Ah, oh! Nooo! Bravo, Dami! Spero non mi costi troppo ripararlo... Dami! Adesso te la vedrai con me! No, non serve! Ciao! Torna subito qui!